Gli impianti di filtrazione rappresentano il vero cuore pulsante del sistema piscina. I principali parametri di valutazione per la scelta dell'impianto sono Tempi di ricircolo Nelle piscine l'acqua non viene sostituita, se non una volta per stagione, ma viene costantemente filtrata e disinfettata. Per garantire ad una piscina privata un'acqua pura e cristallina, il ricircolo completo del volume d'acqua attraverso il filtro deve essere effettuato in circa 4 ore. Distribuzione dell'acqua Per assicurare un ricambio omogeneo ed evitare zone di ristagno, è importante che l'acqua filtrata sia aspirata ed immessa da più ingressi simultaneamente. Qualità dei materiali Sono certamente da preferirsi i filtri a sabbia, di semplice pulizia e di lunga durata. I filtri a cartuccia sono soluzioni adatte soprattutto a piscine fuoriterra di piccole dimensioni. Tutti gli impianti di filtrazione progettati da piscine Castiglioni rispondono alla normativa vigente e in particolare alla norma UNI 10637. Tutti gli impianti di filtrazione progettati da piscine. Tutti gli impianti di filtrazione progettati da piscine. Tutti gli impianti di filtrazione progettati da piscine. Grazie a tutti.